Sessione di contropiede sempre della Virtus, ecco Damario, Damario, vede, vede, raddoppio della Virtus Castelfrentano, 2 a 0, il raddoppio sempre ad opera di Damario, Damario ha portato il risultato al 2 a 0, per lui una doppietta. Adesso l'arbitro si appresta a riprendere il gioco, palla centro, 2 a 0 per la Virtus Castelfrentano.